Presentato ufficialmente il nuovo assetto societario del Giulianova Calcio, targato nuovamente Alessandro Mucciconi, tra gli ingressi di rilievo il mio sponsor Gabriele Martella, il direttore generale, ex calciatore Girolamo D'Alessandro, ma soprattutto Cesare Spinelli, nominato vicepresidente del club. Spinelli lo scorso anno aveva lo stesso ruolo nel città di Teramo, si è parlato tanto del suo addio e di quello che ne è seguito, e soprattutto dopo la sua firma nel club che probabilmente si giocherà con il città di Teramo 1913, i primissimi posti. Sono contento di essere qui perché a me piace fare calcio, trovare delle persone serie, dove ti danno anche la possibilità di esprimerti e questa sarà la mia nuova avventura, speriamo che duri nel tempo. Ovviamente si è parlato moltissimo nelle ultime settimane della sua partenza da Teramo. Io, come voi sapete, ero a Teramo, avevo fatto la mia proposta all'attuale presidente di adesso, che avrei partecipato con determinate quote e compagnia bella, tramite il mio commercialista, a distanza di 25 giorni non abbiamo avuto risposta e quindi a un certo punto ho pensato che non gli avrebbe fatto piacere la mia presenza a Teramo e quindi mi sono rivolto altrove.